Mancano 45 secondi Alvia alla seconda corsa, premio il maestro Osvaldo Kerzè. Sono sei femmine di tre anni, non vincitrici di 5.000 euro in carriera Alvia, la favorita è diventata Flora degli Ulivi. Andrea Farolfi in Salchi, Gennaro Pacileo, giocatissima a tutte le quote, scesa a quota irrisoria di tre quinti. L'alternativa Fior di Ligi, offerta 2.15, mentre è salitissima la quota di Fiamma 3B con Antonio Di Nardo, che da co-favorita è diventata una cavalla 6 contro 1, poi Foglia dei Lupi a 9, Faximile 40, Franca Daghi 50. La macchina che inizia a muoversi per questa seconda corsa, femmine di tre anni, non vincitrici di 5.000 euro in carriera, l'uno Fiamma 3B Antonio Di Nardo, due Faximile, Mano il Pistone, tre Foglia dei Lupi, Luca Lovera, quattro Fior di Ligi, Giacomo Sanseverino, sei Flora degli Ulivi, Andrea Farolfi, sei Franca Daghi, Maurizio Visco. Tostart che accelera una volta scurvato, si prepara a staccare e a liberare i partecipanti a questa seconda corsa. partite, galoppa Flora degli Ulivi, Fior di Ligi cerca di scavalcare Fiamma 3B ma non ci riesce, Fiamma che allora rientra a Fior di Ligi, la quale si sistemerà probabilmente seconda in corda, avanti a Faximile. 5, Flora degli Ulivi, squalificato. Terza posizione per Follia dei Lupi che precede Franca Daghi. 15 e 4 per il lancio di Fiamma 3B che ha respinto Fior di Ligi, si è installata al comando, segue terza Faximile avanti a Follia dei Lupi e a Franca Daghi. 32 e 4 e ora si va davvero da treno sulla piegata di sinistra con Fiamma 3B in vantaggio, Fior di Ligi in seconda posizione, Faximile muove dall'ultima posizione a questo punto Franca Daghi perché il ritmo è davvero irrisorio, addirittura 17 e 1 per la curva di sinistra. Risale a spesa 0 Franca Daghi che si porta sulla testa della corsa, va a fare la seconda pariglia Follia dei Lupi, rimane seconda in corda a Fior di Ligi che precede Faximile. 1, 5 e 7 sul piede dell'1,22 al chilometro. In vantaggio Fiamma 3B, all'esterno Franca Daghi in corda a Fior di Ligi, poi Follia dei Lupi in corda in coda, Faximile, 1,21 e mezzo al primo chilometro. Si accelera ora sulla retta opposta alle tribune con Franca Daghi a mezza lunghezza dalla leader Fiamma 3B, seconda in corda è sempre Fior di Ligi, avanti a Faximile, seconda pariglia per Follia dei Lupi, non cambia nulla con Franca Daghi che prova ad andare all'attacco di Fiamma 3B, la quale controlla per il momento al comando a metà della piegata conclusiva. Fiamma in vantaggio, viene in mezzo alla pista Follia dei Lupi, l'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Fiamma 3B in vantaggio, allunga nei confronti di Fior di Ligi, Franca Daghi e Follia dei Lupi nel finale. Fiamma 3B si allunga e vince facile al secondo Fior di Ligi, al terzo posto Franca Daghi. 14 ad arrivare, 29,4 la chiusa, galoppo liberatorio dopo il palo di Fiamma 3B, uno 18,2 il raguaglio cronometrico, successo per la lieva di Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo, colori del signor Giuseppe Biondo, percorso di testa vincente per la figlia di Oasis B, stappata negli ultimi 50 metri di Antonio Di Nardo anche per vedere un po' la reazione della cavalla che comunque ha staccato facile nel finale. La vittoria di Fiamma 3B, Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo, i colori di Giuseppe Biondo.